Le fiamme si sono spinte a pochissimi metri dalle abitazioni, seminando il panico tra gli abitanti che si sono allontanati dalle case invasi da un fumo nero che si è poi propagato per l'intero scalo cittadino. Tempestiva la richiesta di intervento da parte dei cittadini è l'arrivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare la situazione resa ancora più complicata dal vento, che spingeva le fiamme sempre più vicino alle case. Fortunatamente alla fine non si sono riportati danni alcuni. Grazie a tutti.